Buongiorno amici, oggi giornata di riposo. Mi trovo sul monte Subbasio a circa 2200 metri e mi trovo esattamente nel punto più basso del cratere, il cosiddetto cratere del Mortaro, che è una forma tronco conica e sono venuto qua con il mio tamburo per fare una meditazione. La meditazione l'ho già fatta e adesso voglio dedicare questo suono di tamburo a tutti quelli che mi ascoltano. È dedicato soprattutto alla Pachamama, alla terra, questa meravigliosa terra che ci ospita con tutti i suoi elementi, l'acqua, il fuoco, la terra e l'aria. Buona ascolta amici. Buongiorno amici. Buongiorno amici. Buongiorno amici. Buongiorno amici. Buongiorno amici. Buongiorno amici. Ciao a tutti.